Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Il mio nome è Rossella Pani, io sono una maestra di riequilibrio energetico, ma mi occupo anche di guarigione spirituale e crescita personale. In questo video faremo un lavoro pratico sul perdono dei nostri ex fidanzati, ma anche il perdono di noi stessi. Metteremo anche il perdono dei genitori, in quanto le nostre relazioni sono legate anche al rapporto con i propri genitori. È un discorso che arriva dall'infanzia, quindi se ci sono dei nodi karmici, se ci sono ancora dei problemi risolti con i nostri genitori, noi li dobbiamo sciogliere. Quindi lavoreremo sul perdono del padre e della madre, ma anche sul perdono degli ex partners, quindi se abbiamo avuto uno o più fidanzati, e anche il perdono dei nostri ex amori. Alle volte non abbiamo vissuto una relazione concreta con una persona, ma ci siamo innamorati o innamorate di qualcuno, anche per tanti anni, e magari abbiamo sofferto per amore. Quindi tutto questo dolore, sofferenza, tutti questi conflitti, tutte queste ferite, magari legate anche all'abbandono, al rifiuto, legate alla nostra infanzia, che poi si manifestano attraverso le relazioni, magari anche di tipo tossico, con i nostri ex partner, tutti questi conflitti, questi nodi devono essere sciolti. Come noi possiamo guarire queste ferite? La guarigione del cuore ci consentirà di aprirci a nuove esperienze, esperienze di amore vero, esperienza con un partner che sia perfetto per noi per questa vita. Ma veramente io vi consiglio vivamente di lavorare sulla guarigione del cuore attraverso il sacro processo del perdono per poter pulire, per poter sciogliere i nodi, per poter sciogliere il karma. E tutto ciò che ci sta impedendo appunto di manifestare relazioni solide, relazioni d'amore vero e puro. Bene, oggi quindi lavoreremo appunto sul discorso dei partner, però questo è veramente applicabile anche sulle amicizie, sui rapporti sociali in generale, anche con i nostri colleghi di lavoro e così via. Magari lo faremo in un altro video, ok? Quindi iniziamo subito con questo lavoro di trasformazione, un lavoro alchemico di guarigione, ok? Invoco la divina presenza di Dio Dea, Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, gli angeli custodi di tutte le persone che con tanto amore stanno seguendo questo video. Gli angeli custodi è il sé superiore di tutti gli ex fidanzati o fidanzate, ex amori, i nostri genitori, padre e madre. Vi chiedo con amore, Arcangelo Michele, di tagliare tutte le corde egoiche di paura, di rabbia, di competizione, di giudizio, di dolore, di sofferenza, di paura. Tutto ciò che ho posto a Dio alla luce e all'amore si è liberato, si è sciolto ora e per sempre e per l'eternità. Arcangelo Michele ti chiedo di purificare le nostre intenzioni, parole ed azioni, aiutaci in questo processo del perdono a guarire il nostro cuore, a liberarci dai traumi, dalle ferite del passato, da tutto ciò che ci sta impedendo di aprire il nostro cuore all'amore vero, puro e sincero. Aiutaci a lasciare andare il rancore, il dolore e la sofferenza legata alle ferite dell'abbandono, del rifiuto e ferite anche molto più gravi e più profonde dell'anima, anche quelle che arrivano dai nostri genitori e dai nostri antenati. Quindi chiedo veramente il tuo intervento diretto per la nostra guarigione del cuore, per la nostra liberazione, purificazione e il nostro riallineamento all'amore più puro e più grande. Grazie, 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 è fatto, è fatto, è fatto e così è, così sia ora per sempre e per l'eternità. Bene, ora vi chiedo di visualizzare l'immagine dei vostri genitori, vostro padre, vostra madre, i vostri ex fidanzati o fidanzate, fin dall'età di quando eravate anche bambini, anche il fidanzatino di quando eravate bambini che magari vi ha tradito con l'amichetta, insomma potrebbero essere accadute tante cose, sono tante le dinamiche, quindi immaginate appunto i vostri ex amori, uno per uno, metteteli davanti a voi, almeno quelli che ricordate, e anche gli amori grandi e profondi che avete provato per qualcuno, magari che questo amore non è stato corrisposto e questa persona, magari siete ancora legati a questa persona, proprio per lasciare andare questi legami che vi stanno impedendo di vivere un amore vero, un amore reale, quindi mettete davanti a voi questa persona o queste persone, i vostri ex partner, sia che sia stato uno o più di uno. Ed ora iniziamo innanzitutto col perdono del padre e della madre, quindi mamma io ti perdono profondamente, completamente, completamente, per tutto il dolore e la sofferenza che mi hai causato in questa vita sulla terra, nelle altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni, in tutte le direzioni del tempo spazio. Papà oppure babbo io ti perdono profondamente, completamente, per tutto il dolore e la sofferenza che mi hai causato, volontariamente o involontariamente, consapevolmente o inconsapevolmente, in questa vita sulla terra, nelle altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo spazio. Cari genitori, io vi chiedo di perdonarmi profondamente, completamente, per tutto il dolore e la sofferenza che posso avervi causato, volontariamente o involontariamente, in questa vita sulla terra, nelle altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni e direzioni del tempo spazio. Ora perdoniamo i nostri ex amori, i nostri ex partners, ok? O fidanzati o fidanzate, come preferite chiamarli voi. Quindi io, parliamo al plurale, perché sennò ci vorrebbero ora perdonare, fare questo lavoro uno per uno. Si può fare anche in maniera collettiva, come una guarigione collettiva. Se invece volete perdonare una persona alla volta, questo lo potete fare. Intanto state imparando il metodo, ok? Che è veramente un lavoro potente. Quindi io vi perdono, miei ex amori, miei ex partner, profondamente e completamente, per tutto il dolore e la sofferenza che mi avete causato, volontariamente o involontariamente, consapevolmente o inconsapevolmente, in questa vita sulla terra, nelle altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni, in tutte le direzioni del tempo spazio. Con amore vi chiedo di perdonarmi profondamente e completamente, per tutto il dolore e la sofferenza che posso avervi causato, volontariamente o involontariamente, consapevolmente o inconsapevolmente, in questa vita sulla terra, nelle altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni e direzioni del tempo spazio. Ebbene, sì, il concetto del perdono non riguarda solo il perdono di persone che ci hanno fatto soffrire, ma anche il perdono di noi stessi, perché possiamo noi aver causato dolore e sofferenza alle altre persone. Nella seconda parte di questo video faremo anche il perdono di noi stessi, ma anche questa è una forma di perdono, noi che perdoniamo gli altri e noi che perdoniamo noi stessi per il male che possiamo aver causato ad altre persone, ok? Bene, ora iniziamo. Io vi perdono, vi amo e vi benedico. Oppure io vi perdono, vi benedico, vi auguro il massimo bene. Vi mando amore, luce, pace e guarigione. Io vi perdono, vi benedico, vi auguro il vostro massimo bene. Io vi mando amore, luce, pace e guarigione. Io vi perdono, vi benedico, vi auguro il massimo bene. Io vi mando amore, luce, pace e guarigione. Io vi perdono, vi benedico, vi mando amore, luce, pace e guarigione e vi auguro il massimo bene. Io vi perdono, vi benedico, vi auguro il massimo bene, vi mando amore, luce, pace e guarigione. Io vi perdono, vi benedico, vi mando amore, luce, pace e guarigione. Io vi perdono, vi benedico, vi auguro il massimo bene, vi mando amore, luce, pace e guarigione. Io vi perdono, vi benedico, vi auguro il massimo bene. Io vi mando amore, luce, pace e guarigione. Io vi perdono, vi benedico, vi auguro il massimo bene, vi mando amore, luce, pace e guarigione. Io vi perdono, vi benedico, vi auguro il massimo bene. Io vi mando amore, luce, pace e guarigione. Io vi perdono, vi benedico, vi auguro il massimo bene. Io vi mando amore, luce, pace e guarigione. Io vi perdono, vi benedico, vi auguro il massimo bene. Io vi mando amore, luce, pace e guarigione. Io vi perdono, vi benedico, vi auguro il massimo bene. Io vi mando amore, luce, pace e guarigione. Io vi perdono, vi benedico, vi auguro il massimo bene. Io vi mando amore, luce, pace e guarigione. Io vi perdono, vi benedico, vi auguro il massimo bene. Io vi mando amore, luce, pace e guarigione. Io vi perdono, vi benedico, vi auguro il massimo bene. Io vi mando amore, luce, pace e guarigione. Io vi perdono, vi benedico, vi auguro il massimo bene. Io vi mando amore, luce, pace e guarigione. Io vi perdono, vi benedico, vi auguro il massimo bene. Io vi mando amore, luce, pace e guarigione. Io vi perdono, vi benedico, vi auguro il massimo bene. Io vi mando amore, luce, pace e guarigione. Io vi perdono, vi benedico, vi mando amore, luce, pace e guarigione e vi auguro ogni massimo bene. Io vi perdono, vi benedico, vi auguro ogni massimo bene. Io vi mando amore, luce, pace e guarigione. Io vi perdono, vi benedico, vi mando amore, luce, pace e guarigione e vi auguro il massimo bene. Io vi perdono, vi benedico, vi auguro il massimo bene. Io vi mando amore, luce, pace e guarigione. Io vi mando amore, luce, pace e guarigione. Io vi perdono, vi benedico, vi auguro il massimo bene. Io vi mando amore, luce, pace e guarigione. Io vi perdono, vi benedico, vi mando amore, luce, pace e guarigione. Io vi perdono, vi benedico, vi auguro il massimo bene. Io vi mando amore, luce, pace e guarigione. Io vi mando amore, luce, pace e guarigione. Io vi perdono, vi benedico, vi auguro il massimo bene. Io vi mando amore, luce, pace e guarigione. Io vi perdono per tutto, profondamente e completamente. 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 Io vi perdono per tutto, profondamente, 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 completamente. Bene, adesso che abbiamo lavorato sul perdono di tutti i nostri ex, ok, immaginiamo di lasciarli andare, possiamo immaginare di abbracciarli uno per uno. Se non riusciamo a fare questo, stringergli la mano o comunque augurargli ogni bene e lasciarli andare con amore, ok? Quindi lasciarli andare affinché anche possano essere tagliate tutte le corde energetiche legate alla paura, vi possano rimanere solo le connessioni di luce, di amore puro da cuore a cuore. Io naturalmente vi dico di ripetere questo lavoro energetico più volte fino a quando non sentirete nel cuore di aver perdonato tutto e tutti e di avere il cuore libero dal sentimento, dalla rabbia, dalla paura, dal giudizio. Il giudizio può essere anche quello, gli uomini sono tutti uguali, non riuscirò mai a trovare la persona giusta, tanto sono tutti uguali e così via. Non è così, bisogna sganciarsi da questi sistemi di credenze, da queste energie tossiche, attraverso il perdono e la guarigione del cuore. Facendo questo noi possiamo aprirci all'amore, ma non abbiamo finito, dobbiamo anche lavorare sul perdono di noi stessi, perché noi stessi possiamo aver commesso degli errori nei confronti delle altre persone o semplicemente ci sentiamo colpevoli, abbiamo dei sensi di colpa, abbiamo un senso di vergogna, un senso di impotenza, di non sentirci all'altezza e anche il discorso delle ferite, dell'abbandono e del rifiuto. Dobbiamo perdonare il nostro sacro cuore e facendo questo ci sentiremo pulite, puliti per aprire il nostro cuore, ricevere l'amore vero in tutte le sue forme ed espressioni, ma anche nella forma dell'amore romantico, dell'amore che si può vivere con un partner di vita perfetto per noi per questa vita. Quindi io mi perdono profondamente, completamente per tutto il dolore e la sofferenza che posso aver causato a me stessa o a me stesso e agli altri in questa vita sulla terra, nelle altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo-spazio. Io mi perdono, mi amo, mi benedico e mi auguro il meglio. Io mi perdono, mi amo, mi benedico e mi auguro il meglio. Io mi perdono, mi amo, mi benedico e mi auguro il meglio. Io mi perdono, mi amo, mi benedico e mi auguro il meglio. Io mi perdono, mi amo, mi benedico e mi auguro il meglio. Io mi perdono, mi amo, mi benedico e mi auguro il meglio. Io mi perdono, mi amo, mi benedico e mi auguro il meglio. Io mi perdono, mi benedico e mi auguro il meglio. Io mi perdono, mi amo, mi benedico e mi auguro il meglio. Io mi perdono, mi benedico e mi amo, mi benedico e mi auguro il meglio. Io mi perdono per tutto, profondamente e mi perdono per tutto, profondamente e completamente. Io 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 mi perdono per tutto, io mi perdono per tutto, io mi perdono per tutto, profondamente e completamente. Ed ora ringraziamo, grazie, 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 è fatto, è fatto, è fatto, è fatto e così è, e così sia, ora, per sempre, per l'eternità. Grazie. Bene, anime infinite, io vi consiglio di fare questo lavoro energetico da un mese tutti i giorni a 90 giorni. E ad aprirci, grazie, grazie, grazie. E ad aprirci ad un nuovo amore, per l'amore, per l'amore. E ad aprirci ad un nuovo amore basato sull'amore vero, puro, sincero, il rispetto reciproco, senza ferite, senza nodi, senza karma. Perdonare vuol dire amare, ok? Io vi lascio con questa frase, vi lascio andare con tanto amore, vi auguro veramente di aprirvi al nuovo e che possa arrivare quello che voi state cercando. Un caro saluto e a presto nel mio prossimo video. Ciao!